ben tornati ragazzi sul canale di giochi next gen come sempre sono angelo nero e siamo ancora qui con loredana marco e nico per il proseguo della challenge per chi ha visto la prima parte del video saprà di cosa sto parlando per chi non l'ha vista sarà andasse a vedere sotto in descrizione troverete il link della prima parte della challenge e se volete sempre sul canale ci sono anche le altre due challenge che abbiamo fatto io e lei in precedenza allora per chi non ha seguito il primo video ora siccome abbiamo fatto la gara e ha vinto loredana stiamo provando a mangiarci le caramelle rimaste che sarebbero queste facendo sfide diverse quindi sfide un po più interessanti e un po più anche bastarde allora ora scegliamo il colore avevamo detto il celeste che sarebbe fognaputrida o ribesse ora in questo turno invece chi non mangia la caramella schifosa che prende pagherà appena mangiandosi tre caramelle di uno stesso gusto da solo finiscono perché non è che pensa di diretti no ancora finiscono buone pronti via via buona è buona non lo so come non lo so no è buona ragazzi appena perso ragazzi ragazzi appena perso quindi ho solo lui a te è buona che faccio a fare le domande io rapa schifo ragazzi appena la ruota e si mangierà tre caramelle dello stesso gusto se non ci sono se ne mangierà tre di gusti diversi oppure due a seconda di quante sono rimaste per vedere agli amici che sono tre allora guardate ragazzi vedete due gialle è una viola però li metterà attenzione in bocca noi stiamo a dire sì sì pronto poi via vediamo se può mix di sapori non ci credo buone non ci credo non ci credo tre buone è possibile non gioco più male con te e non lo vieti va a farti schifare ragazzi mi dispiace non sarà me tre schifose è capitata lui tre buone è giusto che ragazzi torniamo a fare dei giri normali direi di andare su le andiamo su quelle arancioni ultime quattro arancioni ma anche cin 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 l'ora me lo tienila ma è normale i fratelli puzzetta colpiscono ancora cosa facciamo nella prossima sfida allora facciamo la prossima sfida ragazzi ora la facciamo ancora più difficile ognuno di noi prenderà due caramelle di due colori diversi e le mangia insieme allora vediamo che facciamo alla cazzo chiudete gli occhi francesca inizia chiudiamo gli occhi giusto chiudiamo gli occhi pescando dei due mettetevi la mano così una ci fidiamo ci fidiamo e due nico cosa ha pescato dio ciliegia e ah quindi io ho preso io pesce rossa e rosa sarebbe cerumo gelatinoso e cimice petente nico tu cosa hai preso tropical lime e lui ha preso vomito puzzolente e pesce marcio marco ha preso vomito puzzolente e cimice petente no 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 ha preso la blu che sarebbe a fogna putrida e ciliegia filoso pronti allora tutte e due insieme pronti se sono due mix mix letale aspetta chi sputa prima no niente poi solamente a fare mix ora di schifo pronti via via ragazzi a me sono buoni mio fratello puzzetta però porta in alto la bandiera della famiglia rai una e una poi si possono mangiare non ho messo entrambe buono non ho messo due ragazzi io salto perché in questa challenge invece faremo due a testa e poi se le scambieranno e sceglierò io come allora che cosa avete pescato allora lui ha pescato pesce marcio e cerume gelatinoso lui ha pescato vomito puzzolente e cimice petente e lui ha pescato pesce marcio e fogna putrida allora facciamo una cosa loredana scegli una caramela da passare o a marco a nico una delle due e facciamo gli scambi a chi la vuoi dare a marco a nico e vuoi da marco questa gialla allora lei ha preso vomito puzzolente e ha dato a marco cosa hai dato quella rosa loredana gli ha dato pesce marcio marco tocca a te scambiare con loredana e con la marco poi ti do cimice petente e mi prendo quella rossa che dovrebbe essere allora ha preso ciumice petente e ha dato cimice petente nico ora tu puoi scambiare o con loredana o con l'altra di marco è schifo vediamo cosa scegli eh no io voglio quella rossa no non puoi farlo scambi al contrario puoi cambiare con una nuova guardi consiglio il vomito puzzolente dovrebbe avere un retrogusto deciso no facciamo consiglio forse al meglio il sapone del pesce quindi anche cos'hai dato allora ti sei messo fognaputrida e hai dato ah no cazzo eh mi dispiace hai dato pesce marcio allora pronti? pesce marcio no 1 2 3 via io vi guardo in diretta dalla webcam mi dico se è pescato tu te lo rischi forse che non è prima neanche una eh no neanche una va bene aspetta fammi ricordare cosa ho preso io com'è buona? è questa che faceva a schifo l'altra è buona l'altra è buona sì come cazzo ha fatto a distingere? ha rotolato l'altra è buona ma ha rotolato l'altra è buona ognuno si abbina un colore io giro la ruota il colore che esce quando mangia la caramella verde blu blu rosa e io prendo nero ragazzi giriamo chi? esce e mangia blu io devi mangiare tutte? no una sola puoi scegliere quale? ma no c'è sta la fogna, la cimice e il vomito prendi la fogna sono manzate una fogna sono manzate due fogna facciamo così ah no due cimici fetenti e un vomito puzzolente scegli volevo essere equo tagliando un colore ma ci sono i doppioni del rosa e del blu quindi per chi riesco a morire con la cimice ok ragazzi appena preso la cimice vediamo com'è? com'è? fa schifo no no ragazzi è buona ma com'è buona mi faccio lasciare già posto perchè no è buona maledizione blu nuovo ma dai è nuovo lui si ma non è una testa no cioè escono quattro blu esatto ecco questa la bastardata oh no allora è rimasto una gialla vomito puzzolente una rosa cimice fetente e due fogna putrida o celesti stasera viste che dom'è una fognetta me la fai riuscire questa qua è stampa quindi mo ragazzi pronti? ha la fascia di blu poi con la magia dei ledzi quindi faccio un bel primo piano mangia com'è? è buona non ci credo ragazzi è buona è buona è buona vedete perchè? perchè lei stando vicino trasmette no ma mica nero nero ragazzi io sono le ultime tre abbiamo due una gialla una rosa e una celeste quindi io scelgo tutti i frutti cimice fetente che non ho mai approvato ragazzi alla vostra alla mia vai fratello puzzetta porta la bandiera in alto dalla nostra famiglia sputa eh lo sapevo no è brutta? non lo so com'è? sputa si è attaccato al dente si è attaccato al dente e guarda tutto il rizzetto selvaggio sti bicchieri si è attaccato al dente mi mancava ragazzi si è attaccato al dente ragazzi non riuscivo neanche a sputarla vai giro rosa 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 allora ragazzi si è autochiamata quindi ciao vomito fogna può sciogliere? ha scelto il vomito puzzolento no allora c'è l'asta di muro i vostri pronta? non aspetta niente le mangio è ottima vediamo la faccia zan 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 vuoi andare in buone? ahahahah ahahahah così non lo so 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 ultima caramella verde lui spero che sia buono ragazzi ultima caramella cin cin com'è? cpm è pure l'ultima rapport ma non è possibile solo io ho beccato quella schifosa mh allora ragazzi questa è l'ultima challenge con i rischi e il gusto perché basta se la mangio tutti lui non è giusto La sfida di prima come sempre l'ho vinta io ovviamente perché la vinco comunque a prescindere io che il canale è mio quindi la vinco io no Euro 3 hanno perso Allora ragazzi La sfida è finita Spero che vi state divertiti Abbiamo voluto fare questo piccolo extra Per farvi divertire Come sempre, come ho detto nella prima parte del video Se non avete questa notte, ve l'ho subito a vedere Lasciate almeno 10 in piace E cambieremo c'è Vi posso garantire che il gusto finisce qui Per il momento Tranne se non me ne chiedete voi Non lo fate Perché ho ancora il sapore di puzzetta selvaggia Quindi basta Quindi ragazzi niente Io come sempre vi invito a condividere il video Se vi è piaciuto, commentate Sfondate di like Fate conoscere il canale, iscrivetevi Se non avete fatto, sotto in descrizione troverete Il link degli altri challenge Il mio DPSN Xbox Live Se volete aggiungermi Cercherò di portarvi sempre più spesso Challenge con loro 3 Così ci divertiamo insieme Se avete qualche challenge in particolar modo Che vorreste vedere sul canale Che non sia troppo Ecco complicata Scrivetemelo E io cercherò di portarvela E con questo è tutto Ci vediamo al prossimo video Un saluto da Loredana Ciao Marco Ciao E Nico Ciao E ovviamente da me Angelo Nero Al prossimo video ragazzi Bella Ciao 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 Grazie.